e bentornati e benvenuti su go italia qualche piccolo aggiunto allo studio allo studio vale diciamo così eccoci qua e quindi poi lo userò per le varie dirette ma continuiamo con questo titolo che a me sta piacendo pochissime più se ne frega io lo porto avanti questa quarta parte secondo me è molto più interessante e stiamo cominciando a suonare anche le macchine andiamo 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 let's go e vai si va go ed eccoci qua col parash 911 legacy eccoci eccoci qua abbiamo sbloccato 1 2 3 4 5 6 eventi 6 6 eventi e li faremo tutti i boi con calma eh quando si carica ok eccoci qua 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 ecco', eccoci qua лохissima questa porsche vediamo se ce la farà Grazie a tutti. 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 Attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo, andiamo. Andiamo. What a win. Sarà un casino questa gara di tutto e di più. Un'altra è più belle gara però, bella? Vai, vai. 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 Dovunque. Dovunque. Guardi sulla spiaggia. Vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo. Combinato un po'. Entriamo qui. Ah, se ce la faccia. Ah, se ce la facciamo. Vai. Attenzione. Yes. 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 e poi. No. 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 vai vai con la turbo 3600 vai un po' più performante devo combattere con un attimo con macchine con un po' più di cavalli leggermente ok 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 Manca mi ha un po' stancato Lo rieverà? Ah, vitalmente 111 GT1 Un vecchio mostro Beh, non troppo vecchio Insomma, abbastanza Ah, yeah Con cui non so di cosa vinceremo Cosa il gioco ci regalerà attenzione Charlie Da volte davanti Ok 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 Oh-oh-oh Ce l'abbiamo dito al culo Tutti quanti Ok 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 Oh-oh-oh Grazie a tutti. Siamo a 45 minuti, è uscito fuori di strada, guardate il timing, va bene, dai, dai, dai. Un secondo, scarso di vantaggio, non è molto, ma abbiamo vinto! E non potevamo perdere, non con questa figaggine. Guardate, non c'è nulla di sexy, si può mettere nulla di sexy, veramente molto political, ma poi tutti vestiti da maschio. Ci sentiamo molto donne. No, ok. Non c'è nessuno, c'è nessuno, c'è nessuno, c'è nessuno. Non c'è nessuno, c'è nessuno, c'è nessuno, c'è nessuno. Non c'è nessuno, c'è nessuno. Grazie a tutti. 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 Sfida 2, sfida 2, ci siamo, ci siamo. Ciao. Grazie a tutti. 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 Yeah. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Imprendibili. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bella. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.